Sta per decollare il volo che porterà per la prima volta un Papa in Bahrain. Questo è il 39esimo viaggio apostolico di Francesco. Alle mie spalle stanno prendendo posto nella 330 della compagnia Ita Airways, quasi 70 tra tecnici, giornalisti, fotografi delle testate di tutto il mondo che accompagneranno il Santo Padre insieme al seguito papale. Come di consueto, molti hanno portato lettere e doni, come il quadro di Santa Teresa in vista del compleanno di Francesco, il prossimo 17 dicembre, che gli sarà consegnato oggi. Il volo durerà circa 5 ore, solvoreremo Italia, Grecia, Cipro, Egitto, Giordania, Arabia Saudita e Bahrain. Occasione della visita è il forum dedicato al dialogo per la coesistenza umana tra Oriente e Occidente. Un altro passo dunque del successore di Pietro nel solco dell'incontro. Tra gli eventi principali di questa visita, la Santa Messa presso il Bahrain National Stadium e l'incontro con i giovani nella Scuola del Sacro Cuore. Due le città visitate fino a domenica, Manama e Avali, dove atterreremo alle 16.45 euro locale, ovvero con due ore in più rispetto all'Italia.